Stiamo affrontando con i vari candidati tutta una serie di tematiche, di argomenti, di impegni che ove mai eletti dovranno poi affrontare. Un punto nevralgico è quello dello sviluppo economico e dell'occupazione. Ne parliamo con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, fitto candidato presidente. Il tema del lavoro è il tema principale, penso che in ogni famiglia tarantina, pugliese in generale c'è questa necessità, questa emergenza e quindi la politica deve necessariamente dare una risposta ai giovani e non soltanto ai giovani, perché il problema della mancanza di lavoro purtroppo interessa tante famiglie anche con età non più giovanile. Io penso che la regione ha necessità di affiancare il sistema delle imprese, delle piccole e medie imprese attraverso alcune direttrici. Il primo è quello infrastrutturale. Se la nostra provincia è completamente fuori dal contesto regionale, fuori dai mezzi di comunicazione veloci, fuori da un sistema infrastrutturale viario che consente il collegamento con l'intera nazione, è normale che le nostre imprese vivano una condizione di sudditanza rispetto ad altre imprese di altri territori. Leggevo proprio stamattina una notizia che c'è una sperimentazione del famoso treno Italo in Puglia, ma che toccherà la provincia di Bari e Foggia e toccherà il Salento. Taranto ancora una volta... Una sorellina povera, la Cenerentola. Non so se parlare proprio di Cenerentola, qui c'è proprio un'esclusione di Taranto e della sua provincia. Se la politica tarantina non ricomincia a reclamare i diritti sacrosanti che passano attraverso il sistema delle infrastrutture, le nostre imprese non possono crescere se l'autostrada si ferma a Massafra. Le nostre imprese non possono crescere se il sistema ferroviario è oramai un sistema ferroviario che manco in Basilicato e in Abruzzo, nelle regioni di montagna, è così limitato. Non possiamo guardare lo sviluppo del territorio se il sistema aeroportuale è bloccato. Non possiamo guardare lo sviluppo del territorio se un porto magnifico e bellissimo come questo, qui alle nostre spalle, non è valorizzato. E allora di che cosa parliamo? La Regione Puglia deve investire, lo dico con determinazione, investire su questo territorio per consentire al tessuto produttivo di poter traguardare quegli obiettivi.